Siamo qui con Giorgio Micharelli, tecnico del Camerino. Mister, cos'è successo oggi? È successo? Abbiamo perso una partita, probabilmente anche avremmo meritato di perdere. L'unico rammarico è che siamo stati un po' troppo frettolosi nel voler andare a recuperare. Le zone del campo dove magari l'ultimo passaggio, la conclusione, la finalizzazione, bisogna essere un attimino più freddi e allo stesso tempo più convinti di fare le cose fatte bene. Per il resto la squadra, devo essere sincero, non è neanche dispiaciuta. Come l'avevamo impostata, abbiamo preso il gol, l'infortunio del portiere, ma quello ci sta. È vero che era il nostro momento migliore. Poi abbiamo riuscito, avevamo anche tutto quanto il tempo. L'unica cosa che posso imputare alla squadra è stata questa qui. Un po' di lucidità sottoporta, troppo fretta, magari troppo voglia di recuperare. Ci ha portato ad essere poco ludici e tanto confusionari. L'ambiente come accoglierà questa sconfitta? La società con noi è stata sempre chiara. Venivamo da due vittorie, venivamo anche da buone prestazioni. Quindi è normale che c'era un certo entusiasmo. Era un passo falso che sarebbe stato meglio se non fosse venuto. Però adesso ci rimbocchiamo le mani, che lunedì ci alleniamo e iniziamo a preparare la prossima partita. Adesso abbiamo anche il tecnico dell'Elfa Tolentino, Francesco Giorgi. Dopo cinque sconfitte consecutive, l'Elfa riparte e arriva alla vittoria. Sì, noi venivamo da un periodo abbastanza difficile. Abbiamo, come dicevi, cinque partite che non vinciamo. Quindi in più affrontavamo una grande squadra che in campo ha dimostrato di essere una bella squadra, molto quadrata. Però oggi i ragazzi la volevano a tutti i costi questa vittoria. Quindi è venuta con le unghie e con i denti. Abbiamo dato il 110% e quindi siamo riusciti a portare in porto questo risultato. Tra l'altro avete anche rischiato di fare il raddoppio? Sì, abbiamo avuto un paio di occasioni, una grandissima parata del portiere. Però il calcio è così, quindi ci sono delle belle occasioni. O magari non segni, fai golle su una palla che era quasi innocua per il portiere. Abbiamo fatto golle. E questo però è il calcio. Quindi prendiamo quello che ci viene e va bene così.